La geografia regionale potrebbe cambiare dopo il 16 dicembre, data in cui si terranno il referendum in cui la cittadinanza sarà chiamata ad esprimersi sulle fusioni tra Cartura, Conselve, Terrazza Padovana e quella di Castelbaldo e Masi. Le due nuove realtà dovrebbero chiamarsi Terre Conselvane e Fortezza D'Adige. Oltre a quelli padovani, in totale saranno 26 comuni che andranno al voto per dare o meno il via libera a 6 fusioni in tutta la regione.